Ma dove finiscono tutti i migranti che non hanno i requisiti per ottenere asilo politico? Bella domanda. In Italia si sa come entrano ma non come escono. Sappiamo che ospitalità fa rima con business, sappiamo che da quando il regolamento delle ONG è diventato più stringente sono diminuiti anche gli approdi dall'Africa, sappiamo che dare una sistemazione ai migranti è un ottimo affare, soprattutto quando sono minorenni e sappiamo che a Vicenza c'è un bando da 74 milioni di euro per ospitare 2.900 profughi con un intervento in proiezione dal 2015 al 2019 per un totale di 100 milioni di euro. Infine sappiamo che il 75% delle domande di asilo non vengono accolte. Punto. Non sappiamo altro. Non sappiamo, per esempio, che fine facciano i migranti che non hanno più diritto a restare nel nostro paese e nelle nostre città. Vengono espulsi e con quali costi enormi? E se restano qui, cosa fanno? Dove dormono? Dove mangiano? Domande che qualche giorno fa Forza Italia, Vicenza, ha rivolto senza ottenere una risposta. Abbiamo fatto una serie di domande, abbiamo fatto anche una serie di proposte. Il Partito Democratico che governa questa amministrazione, il Partito di maggioranza, ha un silenzio assordante. Noi siamo l'opposizione e il nostro dovere è quello di fare delle considerazioni e fare anche delle controproposte. Però vorremmo sentire, dal loro anche punto di vista, come la pensano. E già, sarebbe interessante capire come l'amministrazione di Vicenza, targata Partito Democratico, esattamente come il governo, intenda affrontare il problema di questi migranti che, una volta usciti dal circuito dell'ospitalità, restano senza risorse in un paese in cui non condividono né la cultura, né la religione, né le regole sociali. Dove sono finiti i richiedenti asilio che abbiamo accolto negli ultimi due anni? Quelli soprattutto che sono usciti dal programma, dove sono accolti, attualmente dove vivono, dove dormono, con cosa mangiano, con che soldi è che possono vivere. Noi ci teniamo effettivamente a capire di che cosa stiamo parlando e abbiamo veramente il fatto che non avendo risposte abbiamo veramente il timore che questa situazione sia fuori controllo. Grazie a tutti.